Musica Torna a riunirsi il Consiglio regionale. In aula arriva la prima variazione di bilancio, approvata a maggioranza con 23 voti a favore e 11 contrari. Via Libra anche a tre emendamenti presentati dalla Giunta regionale, per un contributo all'Università di Firenze, per la realizzazione di spazi di co-working su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e un contributo straordinario a favore del Comune di Empoli per interventi alla rete idrica. Ad illustrare in aula il contenuto della variazione il Presidente della prima Commissione, Giacomo Bugliani. Il Consiglio regionale ha approvato una manovra che comporta una variazione al bilancio di previsione che per il 2022 supera i 900 mila euro, è di 450 mila euro sul 2023 e di oltre 4 milioni di euro per il 2024. Sul fronte delle entrate si registra un aggiustamento delle aliquote e degli scaglioni dell'addizionale regionale all'IRPEF, all'imposta sulle persone fisiche, in adeguamento alle indicazioni che vengono dalla legge di stabilità del Governo. Questo comporterà un maggior introito di circa 450 mila euro all'anno che andrà però a colpire i ceti medio-alti della popolazione. Per quanto riguarda le voci di spesa, i cambiamenti più importanti che vengono fatti con questa variazione riguardano i territori di alcune province. In particolar modo viene rimodulato un contributo di quasi 430 mila euro per il comune di Palazzuolo sul Segno per la realizzazione di una struttura destinata ad ospitare i servizi sanitari. 250 mila euro sono destinate al comune di Buti e c'è uno stanziamento aggiuntivo di oltre 3 milioni e mezzo di euro che viene destinata alla realizzazione del ponte sul fiume Serchio e che va ad unirsi ad uno stanziamento della provincia di Lucca, del Governo e della Regione che già ammontava quasi 20 milioni di euro. Si tratta della prima variazione al bilancio regionale a cui ne seguiranno presto delle altre destinate ad offrire risposte concrete al territorio toscano e a molte delle esigenze che la comunità con la fase di superamento della pandemia attende. Ok, arriva da Italia Viva. Il nostro impegno è stato quello di evitare un aggravio di costi per i cittadini. A un voto positivo si conferma la volontà di Italia Viva di questo anno di non aumentare le tasse. Una battaglia politica che abbiamo condotto e anche in questa prima variazione la riconferma praticamente anche dell'addizionale IRPEF, degli scaglioni, così come delle tariffe per noi è un elemento importante. Non era il momento di aumentare le tasse, siamo stati in grado di adeguare le nostre previsioni fiscali, le previsioni di riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale. Questo è positivo nelle settimane che sono molto dure per tutti i cittadini toscani come per tutta Italia, dove il carbo letto diventa insostenibile. La riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale, l'assegno unico per la famiglia e la piccola forma di riduzione che proviamo a fare a livello regionale può cercare di alleviare quello che è un aggravio che altrimenti rischia di essere insostenibile per le famiglie toscane. No dalle forze di opposizione. Per il Movimento 5 Stelle ci sono scelte contraddittorie sulla spesa pubblica. Questa variazione di bilancio è incomprensibile. Innanzitutto siamo a marzo e la Regione fa una variazione di bilancio su interventi spot completamente slegati da una programmazione organica e coglie l'occasione essenzialmente di aumentare gli stipendi ai presidenti del Consiglio di Amministrazione che possono cumulare il reddito come amministratore delegato. Visto il periodo di grande incertezza e crisi economica, riteniamo questa decisione veramente fuori luogo. È anche un messaggio veramente sgradevole verso i cittadini che tutti i giorni sono a combattere con le difficoltà economiche, della mancanza di lavoro e tutto quello che sappiamo benissimo legato sia all'aumento dei costi dell'energia che delle materie prime e anche delle derrate alimentari. No compatto dalle forze di centro-destra, il tema delle tasse è al centro. Sonora bocciatura rispetto a una prima variazione che non condividiamo nella filosofia, nell'impostazione e nel contenuto. Siamo molto perplessi sia perché per la prima volta viene rotto il tabù dell'invarianza della pressione fiscale perché di poco qualcosa aumenta e noi siamo preoccupati in prospettiva perché di fatto non abbiamo ancora rassicurazioni per quanto riguarda il debito in materia di sanità delle aziende sanitarie. Vorremmo avere rassicurazioni al riguardo al più presto, anche perché l'adeguamento alle aliquote, le nuove aliquote IRPEF avrebbe potuto avvenire in forma diversa senza portare a un lieve ma pur effettivo aumento della pressione fiscale. Altre regioni hanno perseguito questa strada. In più certamente non rientra tra le priorità dei toscani quello di compensi dei manager delle partecipate della Toscana. Anche per oggi non si vola. Il Pegaso non riprende a volare e tutto questo per colpa della maggioranza di centro-sinistra. E poi ve lo voglio dire proprio chiaramente. Quando si presentano provvedimenti in materia di natura finanziaria, ecco, quei provvedimenti dovrebbero essere con solo norme di natura finanziaria. Invece constatiamo che molte disposizioni non hanno natura finanziaria ma di carattere manutentivo. Cioè servono a far sì che possa essere ristabilito l'ordinamento delle situazioni che devono essere cambiate. Questo non ci convince come modo di fare. Tutto ci saremmo aspettati in un periodo come questo, forse il periodo più drammatico degli ultimi 50 anni quando sembrava fossimo arrivati alla fine dei due anni terribili della pandemia. arrivano i danni della guerra tra Russia e Ucraina, il bilancio della regione toscana arriva in aula e cosa scopriamo? Che le preoccupazioni della regione sono da una parte aumentare le tasse e dall'altra garantire il raddoppio degli stipendi ai manager pubblici. Siamo allibiti da tutto questo. In realtà non si tratta di un aumento delle tasse. Peggio ancora, si tratta dell'aumento della liquida regionale IRPEF puntata su chi guadagna tra i 50 e i 55 mila euro lordi all'anno. Si tratta dei soliti 145 mila, 150 mila circa, cittadini toscani che altro non sono che i giovani imprenditori, le partite IVA, le ditte individuali, i baristi, gli storatori, i libri professionisti, gli avvocati, i commercialisti. Cioè quella fascia produttiva che esce dalla crisi, la regione toscana oggi li colpisce con un adeguamento dell'IRPEF, gli aumenta le tasse. E dall'altra parte si va a fare quella che noi abbiamo denominato legge Becattini, cioè quella legge che consente a chi è nominato presidente di una partecipata della regione di potersi accollare anche lo stipendio da amministratore delegato, perché magari come presidente percepisce troppo poco. Il Consiglio regionale ha invece respinto gli emendamenti di Fratelli d'Italia che chiedevano fra l'altro una riduzione dell'aumento dell'addizionale regionale IRPEF. Su una misura che comporterà per la regione toscana un aumento di circa 450 mila euro. Su questo avevamo cercato di neutralizzare, proprio in virtù della contingenza economica che ci troviamo a vivere, l'impatto immediato sulle tasche dei cittadini di questo emendamento. Questo non è stato possibile paradossalmente perché avremmo intaccato un fondo che va a preservare le perdite delle società partecipate. Tutto questo sarebbe quasi comico se non avessimo oggi in bilancio un'altra misura che è quella che sostanzialmente consente il compenso nelle società partecipate di cumulare le indennità di presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato, laddove è previsto. Allora, capite bene che questo è quasi un paradosso. Dall'altro non si trova un muro contro muro quando si vuole evitare un aumento della pressione fiscale e dall'altro si va a premiare quelli che in qualche maniera sono protetti paradossalmente da quei fondi che coprono le perdite delle società. Noi dobbiamo sempre stare dalla parte giusta della storia. Un appuntamento organizzato da Libera Toscana di fronte a molti studenti al teatro la Compagnia di Firenze per celebrare la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. E dobbiamo farlo tutti insieme con un patto sociale, istituzioni, forze dell'ordine, scuole, ragazze, ragazzi è una sfida collettiva, è un cambio culturale che noi dobbiamo proporre. Il mio impegno in politica nasce proprio per questo, era il 23 maggio del 1992 e arrivò in un evento, in una giornata come questa di sole in cui eravamo tante ragazze e tanti ragazzi insieme la tragica notizia dell'esplosione dell'autobomba e della morte di Giovanni Falcone e della sua scorta. Il pericolo maggiore è quello di sottovalutare le mafie e i fenomeni mafiosi perché non ricorrono più o non ricorrono più tanto ad azioni violente e eclatanti. La stagione delle stragi è finita, è stata acquisita dalle mafie, dalla cosa nostra ma anche dall'andranghe, dalla consapevolezza che non conviene sfidare apertamente lo Stato ma conviene, come hanno sempre fatto storicamente infiltrarsi senza far troppo rumore e quindi l'attenzione deve essere ancora più importante e le inchieste giudiziarie anche in Toscana dimostrano che il pericolo è grave. Abbiamo fatto numerose indagini che hanno consentito di accertare che le mafie investono, si infiltrano, cercano di incunearsi anche all'interno di imprese, di acquisire favori dalle istituzioni. Abbiamo dimostrato che alcuni imprenditori anche locali con pochi scrupoli non hanno avuto molti scrupoli appunto a fare affari con le mafie, per cui bisogna tenere alta l'attenzione. In Toscana stiamo vivendo un momento anche molto difficile perché ci sono delle inchieste consistenti che si allargano sempre di più, che mostrano sempre di più correlazione tra di loro, per cui la grande pagina purtroppo dell'inchiesta sul Cheo ci ricorda che le propagine arrivano persino in Val D'Arno. La questione di Livorno non è soltanto quella del porto della città, ma dei porti toscani in quanto tale per quanto riguarda l'arrivo massivo di sostanze stupefacenti nella nostra regione per tutto il resto d'Italia. L'impegno deve essere radicale e noi cerchiamo di costruirlo su basi nobili, come per esempio il ricordo di tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per il bene di tutti, per la giustizia, per un'Italia libera dalle mafie. E' la voglia di fermare l'attenzione su chi investe in comunicazione pensando di dare un servizio sociale, cioè di premiare l'etica, premiare le cose buone, le cose fatte bene. Noi abbiamo in testa dei messaggi che negli anni sono stati potentissimi. Pensiamo per esempio alla Benetton con la sua campagna con Oliviero Toscani contro il razzismo, contro la mafia, oppure le campagne come il cuore si scioglie, oppure ancora fumare fa male, digli di smettere. Ecco, vorremmo che anche in Toscana premiassimo coloro che siano essi naturalmente le associazioni nel terzo settore. Infatti con noi abbiamo voluto il CESVOT che le coordine rappresenta benissimo tutte, ma anche gli enti pubblici, le società private, coloro che investano per la campagna sociale. A loro vorremmo aprire questo bando per dare un premio per la migliore comunicazione. dare il giusto riconoscimento a quanti in Toscana si impegnano per veicolare messaggi di pubblica utilità con particolare efficacia ed originalità. E questo è l'obiettivo della prima edizione del premio La Toscana che fa bene. Bando per il conferimento di un premio alla migliore campagna di comunicazione sociale realizzata e lanciata nel corso del 2021 a promuovere il premio e il corico e il comitato regionale per le comunicazioni. Presidenti, chi potrà partecipare? Possono partecipare naturalmente tutte le associazioni del volontariato, del terzo settore, naturalmente tutti gli enti pubblici, penso ai comuni, all'associazionismo in genere, ma anche le attività private, coloro che investano però in una campagna che premia le cose fatte bene. Il premio arriva anche grazie alla collaborazione con il CESVOT, il centro di servizi del volontariato toscano. Ma sì, il CESVOT è da tanto tempo impegnato sulla comunicazione sociale, pensate che abbiamo un archivio di 3.378 documenti provenienti da 68 paesi del mondo che ha a disposizione anche delle nostre associazioni, di tutti coloro che vogliono documentarsi su questo e la comunicazione sociale certamente per gli enti del terzo settore è fondamentale perché promuove proprio le azioni che loro fanno sul territorio a favore della popolazione. iscriviti al nostro canale. iscriviti al nostro canale.